bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di cura 93 siamo qui oggi con un'altra modalità raga sicuramente dal titolo avrete capito subito che modalità è e quindi ragazzi non mi resta che restare che partire con questa modalità che ovviamente è l'infetto ragazzi giusto ovviamente molti erano la stavano attenendo da un casino visto che su black ops 2 non c'era comunque si è stata riproposta ragazzi ma secondo me è stata riproposta veramente di merda quindi andiamo su trova partita standard e andiamo su infetto e partiamo subito alleluia ragazzi dopo 30 anni sono riuscito ad entrare una partita su infetto adesso guardatevi questa classe che è buldo con letale e tattico perché non ne vedrete più di classi perché ovviamente secondo me cosa è successo su questo infetto non sono altre classi disponibili ragazzi personalmente cioè dovete usare per forza questo fucile a pompa ma vi sembra possibile perché a me non sembra possibile ragazzi ah vedo già questo minchione ovviamente lo prenderò alle spalle perché è giusto che sia così ma cosa vuoi fare ma cosa vuoi fare devo subito ammazzarlo ok non sono io perfetto questo è questo guarda questo cabellino vai cespuglio vai cespuglio devi immettizzarti così tipo un cespuglietto allora ragazzi la prima parte di questo video ovviamente sarà noiosa perché dovremmo vedere se troviamo quel fottuto infetto ovviamente noi aspettiamo aspettiamo l'infetto sapete dove ragazzi ci mettiamo in un punto epico di questa mappa e rimaniamo fermi come dei coglioni ci mettiamo in questo cazzo di albero senza rischiare di cadere ovviamente quindi mettiamoci una bombetta ci mettiamo sulla palma ragazzi perché è giusto che anche noi prendiamo il sole ovviamente vi spiegherò perché è una merda questo nuovo infetto che hanno messo su su coso su carlo viti ghost perché ragazzi allora prima di tutto vede che non ho secondarie quindi una volta che finisco le munizioni di quest'arma sono nella merda cioè usare quel coltello del cazzo per ammazzare gli infetti e ragazzi cosa usano gli infetti per ammazzare? mi sa proprio il coltello ragazzi perché altrimenti non so in che modo ci possono ammazzare con la pistolina si a quel punto direttamente non fate l'infetto perché veramente diventa una modalità del cazzo tipo diventerebbe la modalità un colpo in canna fatta prima a questo punto poi ragazzi cosa possiamo dire? quindi non c'è varietà di armi sempre quest'arma del cazzo ragazzi quando siete infetti ragazzi vi dico soltanto che ovviamente io aspettate che sto prendendovi per il culo a me e vado via a questa zona ovviamente quando ammazzate da infetto eh sì da infetto da sopravvissuto cioè come sono io ora non acquisite nessuna abilità quindi non avrete gioco di prestigio non avete corse illimitate a minchiate varie non avete un cazzo ragazzi quindi ammazzerete per non avere una minchia ditemi voi se è possibile divertisi in questo modo perché ovviamente gli avversari questi cazzo di infetti o comunque sia gangsta del ghetto ragazzi ehm avranno sempre un vantaggio su di voi del tipo che possono correre all'infinito quando voi dovrete quando voi finirete le munizioni vi inchiappeteranno a pressione perché sono capito ragazzi sono veloci quanto bolt proprio in velocità ragazzi vi raggiungono quindi ragazzi non vi resta che avere un buco di culo grande come una capanna anzi come un grattaccello quello che c'è a dubai avere un culo grande così e sperare di ammazzarli finché non finisce il tempo anche perché vi dico soltanto che non c'è lo specialista e quindi non è possibile rendersi invisibile non è possibile rendersi invisibile in queste mappe ragazzi quindi vi inculerà una pressione comunque ed è questa è veramente una cosa orribile del gioco di questa modalità di infetto ehm adesso non mi resta che sopravvivere ragazzi io sto solo controllando siamo 5 contro 7 infetti quindi io sto sopravvivendo ma penso che mi inchiappeteranno presto a meno che io non riesca a nascondermi in questo modo dovrei restare in questo angolino ragazzi perché adesso vedrete quanti cazzo me ne arriveranno quando mancherà l'ultimo perché verrà indicato nel radar a meno che io non venga ucciso per ultimo ragazzi questa modalità questa partita ve la faccio vedere da non infetto ehm cazzo mi ha visto eh porca puttana fottuto salterino eh sto gazzo stronzo sto gazzo e dov'è? ancora come hai fatto? vabbè ragazzi come ne ho detto mancano due andiamo a incurarli penso che siano qui comunque più o meno le conosco ormai le mappe ragazzi quindi mi so muovere dovrebbero essere sicuramente nel palazzo ecco uno l'ha visto no non l'ha visto un cazzo sto coglione ok dobbiamo muoverci a cercare l'avversario giusto da ammazzare ovviamente non c'è ok è morto da solo pensavo l'avessi ucciso qualcuno ma porca eh vaffanculo l'abbiamo ucciso questo coglione ovviamente mi cadono le cuffie grandi brutto stronzo guarda dove cazzo era camperato genio incompreso ragazzi però l'ho inculato mi ho tagliato direttamente la parte finale perché non stavo facendo un cazzo non sono riuscito a ucciderne uno comunque si ragazzi è arrivato terzo eh va bene ora ragazzi mi ucciderò subito per farvi vedere un pochettino come si sclera da infetti e niente ovviamente io voterò straight ragazzi straight perché è divertente e ovviamente partiamo subito eccoci ragazzi ovviamente non mi è capitata l'altra mappa e sono su sovereign ragazzi bellissima le mie armi il bulldog il classico fucile a pompa del cazzo e partiamo subito ragazzi io mi ammazzerò e vi farò vedere cosa succede da infetti come si sclera da infetti quando siete i primi adesso vediamo se saremo i primi infetti io starò dietro un tipo lo inchiappetterò a pressione così con un succa succa stronzo e poi ti verrò a prendere se sarò l'infetto buzz cosa mi punti cosa mi punti ok ragazzi ammazziamoci bam eccoci il primo no no mi sono ucciso per un cazzo fanculo ma poi questa cosa di abbandonare perché si è infetti ah ma che cazzo bam oh solo un infetto ragazzi perfetto abbiamo visto uno prima qui ragazzi adesso andiamo a provare a ammazzarlo no cazzo porca troia bello cominciano i lag ragazzi cominciano i lag no il coltello il coltello il coltello ma che cazzata dai ma porca puttana puttana è su gala stronzo te l'ho infilato in co in lag si in cola nella cola ragazzi l'ho infilato in go quel coglione così impara oh porca puttana no ragazzi è una pesa per il culo cristo no ma va a farti fottere va a farti fottere veramente epica questa mincata porca puttana proprio una minchiata ragazzi cioè io mi sclero come una bestia no ma va ma va fanculo dai minca ragazzi mi sto incazzando mi sto veramente incazzando cristo di dio fanculo e suga la coglione e te la sei presa si mi arrivano coltelli olè molto coglione ma che no boh c'è camperi anche da vabbè non posso dire niente ragazzi anch'io sto cercando di nascondermi camperando quindi devo stare zitto e basta però l'ho fatto per farlo no ho già finito ragazzi mi sa che ovviamente beh non è il cuore no nello stomaco ragazzi tipo un cinghiale da aprire beh vabbè ragazzi si sclera come delle bestie su quando siete infetti ovviamente mmm ragazzi 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 se parte subito ragazzi ne faccio una dai ne facciamo un'altra ragazzi andiamo e ovviamente la farò sempre da infetto perchè mi voglio fare due risate è veramente divertente mi incazzo e mi diverto comunque sia quindi ragazzi votiamo prison break e partiamo subito eccoci ragazzi siamo su prison break ovviamente c'è troppo equipaggiamento cioè ragazzi c'è troppa varietà di armi ragazzi bulldog ma stiamo scherzando cioè non l'ho mai vista quest'arma su infetto c'è solo quest'arma del cazzo porca puttana veramente allucinante allora di solito i camper c'è i camper ragazzi tutti si camperano qui sopra lo farò farò questa cosa io e ovviamente poi diventerò infetto spero di essere infetto qui su così lo inchiappetto da dietro sto tipo ok tranquillo ok ok l'ha preso andiamo giù ragazzi scendiamo giù ok una no basta ragazzi mi sto già cazzando mamma andiamo dai infetti ragazzi dai infetti voglio fare l'infettumina qui intorno ho sentito qualcosa ragazzi sentito qualcosa vediamo se troviamo qualche stronzo sali cazzo mi ha rotto i coglioni tutti lì sopra ragazzi tutti lì sopra tutti lì sopra ma che palle bravo migliore spara un colpo ne ammazza andiamo andiamo prendiamolo da dietro prendiamolo da dietro non mi sente ragazzi quindi l'ho inchiappetto a pressione voilà cosa ho accoltellato ragazzi cosa ho accoltellato l'aria ho accoltellato l'aria ragazzi l'aria va bene no qui eh prova a riuscire è stronzo ma cosa ah che bastardi mettiamo l'infitazione tattica raga la rainatera non l'avevo mai vista questa bastardo perché non l'ho guardato su mica ti prendi in pieno ora ti prendi in pieno sicuro va morto uno ole perché perché ah almeno son vicino che palle no no ma ti ho preso il piedino puttana no ma che cazzo ma che cazzo ma ti prendo stronzo ti prendo ah ti culato stronzo uno dove è l'altro se ne è fuggito bastardo no porca troia porca troia uno si è nascosto bene uno si è nascosto bene ragazzi dobbiamo trovarlo dobbiamo ucciderlo dobbiamo farlo diventare carne da macello ovviamente l'hanno ucciso gli altri porca puttana sono arrivato secondo ma va bene comunque si mi sono impegnato quindi ho giocato abbastanza bene ragazzi coltellini che togliamo ooooh cos'è sta cosa ragazzi in volo una coltellata in volo vabbè niente da dire ragazzi va bene cose alla fine dai comunque sia ragazzi questo era il video spero che il video vi sia piaciuto ovviamente sulla modalità infetto eeeh che dire le solite cose iscrivetevi commentate mettete un'ip piaccio se ovviamente avete apprezzato il mio video da Cunanomata è tutto ci vediamo alla prossima ciao raga